Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di frazioni proprie, frazioni improprie, frazioni equivalenti e frazioni apparenti. È necessario ripassare un attimino i termini della frazione. I termini della frazione sono numeratore, denominatore. Il numeratore è il numero che si trova sopra. Il denominatore è il numero che si trova sotto la linea di frazione, la linea di divisore. Il numeratore, in questo caso 3, indica le parti prese, mangiate. Il denominatore 8 indica il numero delle parti in cui è stata divisa la pizza. Dunque, le frazioni proprie. Quando il numeratore, cioè il numero sopra, è più piccolo, abbiamo una frazione propria, 3 settimi. Frazioni improprie. Quando il numeratore sopra è più grande, 10 settimi, 10, abbiamo una frazione impropria. Quando le frazioni hanno uguale valore, si chiamano frazioni equivalenti. Un mezzo è equivalente a due quarti. Un mezzo è equivalente a tre sesti. Andiamo a vedere, a ricordare quindi l'ultima categoria, le frazioni apparenti. Una frazione, si dice apparente, se indica un intero. Ad esempio, quattro quarti. È una frazione apparente. Mi dà un intero. Infatti, quattro fratto diviso quattro è uguale a uno. Oppure, otto, queste otto parti, fratto quattro, otto diviso quattro è due. E mi dà un intero. Dodici diviso quattro è tre. Quindi abbiamo un altro intero. Tre unità, due unità, una unità. Andiamo adesso, attraverso il gioco, vedere un attimino di approfondire le categorie, frazioni proprie, frazioni improprie, frazioni apparenti. Quindi, abbina le frazioni alla categoria giusta. Abbiamo otto ottavi, sei sesti, sette settimi, quattro sesti. Allora, una frazione propria è quattro sesti, perché quattro il numeratore è più piccolo. Andiamo alla seconda riga. Due noni, sei ottavi, quattro mezzi, due quinti. Ok, questa è una frazione propria, due noni e due quinti. Andiamo all'ultima riga. Cinque quarti, sette quinti, tre decimi, nove quarti. La frazione che ha il numero più piccolo è tre decimi. Adesso andiamo, passiamo dalla frazione propria alle frazioni improprie. Improprie sono quelle che hanno il numeratore più grande. Nella prima riga non le abbiamo. Nella seconda abbiamo quattro mezzi. Mentre sei ottavi, a quale categoria appartiene? Appropria o impropria? Bravissimi. Ha la categoria propria, perché il numeratore è più piccolo. Quindi andiamo a cliccare su propria e lo mettiamo su propria. Andiamo all'ultima riga. Cinque quarti, sette quinti, nove quarti. Come vedete, tutte e tre le frazioni hanno il numeratore più grande. Quindi andiamo a cliccare su improprie. Sette quinti, nove quarti. Quindi le frazioni che rappresentano una parte maggiore dell'intero, maggiore, sono dette improprie. Sette e maggiore, mentre le frazioni che hanno, dobbiamo ancora scoprire questi, perciò non riusciamo a leggere. Andiamo a quelli apparenti. Gli apparenti sono otto, ottavi, sei sesti, sette settimi. Quindi, fantastico, è ordinato tutto nel modo esatto. Quindi riprendiamo. Le frazioni che rappresentano una parte minore dell'intero sono dette frazioni proprie. Le frazioni proprie hanno il numeratore 2 minore del denominatore 5. 2 è minore di 5. Le frazioni, invece, che rappresentano una parte maggiore, 7 e maggiore di 5, sono dette frazioni improprie. Poi abbiamo detto le ultime, le frazioni apparenti, quelli che hanno lo stesso valore. L'abbiamo detto già qui, se indica un intero. Quindi una frazione, si dice apparente, se indica un intero. Un intero. Andiamo a riprendere l'esercizio. Ecco qua. Ora, che cosa facciamo? Questo gioco, questo esercizio, io lo metto, lo inserisco sulla vostra lavagna. Copia. Vado sulla vostra lavagna. È già stato inserito qua. Eccolo, vedete? E voi a casa potete nuovamente fare l'esercizio. Per ricordare bene i termini, le categorie della frazione. Ciao e alla prossima!